PILOTA COOPER Le scansioni rilevano pochissima energia, forse va riparato. Attenzione, sto rilevando diversi contatti. Postbili confermati. Gli stalker sembrano programmati per attaccare la sala controllo. Attenzione, tracce di sostanze chimiche pericolose nella nebbia. Comandi pilota, avvia. Posso farci. È improbabile pilota, la nebbia è mortale per la vita organica. Non possiamo proseguire la missione. Se muori, sarai al sicuro nel mio abitacolo. Pilota, rilevo forze della milizia nella sala controllo del trasmettitore. Sembrano in difficoltà. Ti inoltre ho la comunicazione. Ti consiglio di aiutarli a eliminare gli stalker e poi mettervi direttamente in contatto con i fuciglieri della milizia. Opzione tattica. Mettili sotto. Il mio telaio di 40 tonnellate può eliminare i nemici più piccoli. Il mio telaio di 40 tonnellate può eliminare i nemici più piccoli. Minaccia neutralizzata. Bel lavoro. Questa vittoria ha alzato il nostro rendimento in combattimento. BT-7274 alle forze della milizia. Tutte le minacce sono state eliminate. Vi avete salvato il culo. Quegli stalker continuavano ad arrivare. Non saremmo durati ancora per molto. Stiamo aprendo le porte blindate. Entrate. Il pilota e i Taikars sono sul montacarichi. Necord, tirali su. Subito, signori. Capitano, stato del trasmettitore? L'energia si è arrestata. Abbiamo perso il controllo del trasmettitore. Ci serve qualcosa di simile per avviare il sistema, ma questo qui è distrutto. Designazione. Arc. Funzione. Genera energia fino a 5 megajoule. Sì, sì. Sappiamo che cos'è. Puoi ripararlo? Purtroppo no. I sensori indicano che ce n'è un altro nella sottostazione, ma è quasi impossibile raggiungerlo. Questo posto non fa per gli umani. Capito. Pilota Cooper, sii prudente mentre esplori la sottostazione di questa struttura. Devi recuperare l'Arc. Buona fortuna. Spero torni sano e sano. Ne abbiamo persi troppi da giù. Buona fortuna. L'ultimo pilota dei nostri è andato di lato. Pilota, mi sono inserito nel tuo casco per monitorare i tuoi progressi. Se ti serve aiuto, il canale è aperto. E te? Che succede a questi muri? Scansione. Circuiti elettrici esposti. Dovresti evitare il contatto diretto. Avanza con cautela. Ricevuto. E te? Ricordami cosa ci faccio qui. La tua missione è ottenere un'Arc con il quale potremo avviare i sistemi energetici e riattivare il trasmettitore. Le mie scansioni rilevano la sua traccia più avanti nella sottostazione. La tua missione è ottenere un'Arc con il quale potremo avviare i sistemi energetici. La tua missione è ottenere un'Arc con il quale potremo avviare i sistemi energetici. La tua missione è ottenere un'Arc con il quale potremo avviare i sistemi energetici. La tua missione è ottenere un'Arc con il quale potremo avviare i sistemi energetici. La tua missione è ottenere un'Arc con il quale potremo avviare i sistemi energetici. La tua missione è ottenere un'Arc con il quale potremo avviare i sistemi energetici. Situazione. Sotto stazione energetica trasmettibile. Potenza non è vasta. Personali umani non autorizzati. Attivazione forze di sicurezza automatizzate. Sotto stazione energetica trasmettibile. Sotto stazione energetica trasmettibile. La capsula si trasmettibile. Un vero labirinto qui sotto. Quanto è profondità? Le scansioni danno una profondità massima di 300 metri. Non due fondamentali. Si. Sì. Marvin Delta 2 1 bravo, regolare a volazione elica topina 5 a 1.8 settimane. Rilevata anomalia, organico, codice rilevata di ventilazione. Bypass riuscito, scarico ventilazione disattivato. Non temere, il tuo jump kit può reggere la caduta. Rilevata un oggetto estraneo, ciclo energetico tra turbina, analisi conclutente, decisione di caratteristica. Marvin Delta 5 1 X-Ray, ripetizione ciclo energetico turbina 16.487, completato. Arca rilevata a 30 metri. Arca 5 1 X-Ray, ripetizione ciclo energetico turbina 16.487, completato. Marvin Delta 5 1 X-Ray, ripetizione ciclo energetico turbina 16.487, completato. Arca 5 1 X-Ray, ripetizione ciclo energetico turbina 16.487, completato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.